Buongiorno e bentrovati alla Rassegna Stampa. L'appuntamento quotidiano con le informazioni di Teleluna. Oggi martedì 12 febbraio, martedì grasso, i giornali aprono tutti con la stessa notizia, ovvero l'addio del Papa, la rinuncia del Papa che si dimetterà il 28 febbraio. Rinuncia arrivata ieri, la vediamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Non ho più forze, il Corriere della Sera sceglie il virgolettato e le parole del Papa di ieri. Non ho più le forze, perdonatemi. Il Papa annuncia a sorpresa le dimissioni dal 28 febbraio. Lo faccio per il bene della Chiesa. Il conclave è la scelta del successore prima della Pasqua. Per il Presidente Napolitano si tratta di grande coraggio che ha avuto il Papa. Anche la scelta della foto è molto significativa. Il Papa con i capelli bianchi scomposti dal vento con un atteggiamento abbastanza triste. Andiamo a vedere nei dettagli l'editoriale del Direttore Ferruccio De Bortoli. Sorprendendo anche i suoi stretti collaboratori, Benedetto XVI ha deciso di lasciare la cattedra di Pietro e ha impresso all'apparenza una svolta di grande modernità alla Chiesa. L'equivalente di una riforma conciliare. Da credenti vorremmo tanto pensare, nella tristezza dell'occasione, che questa sia l'interpretazione più corretta. Al papato che si concluderà a fine mese la storia assegnerà un posto di rilievo. Di straordinaria elevatura è stato l'insegnamento teologico, di grande autorevolezza la difesa dell'identità cattolica, di infinita profondità culturale e umana la testimonianza pastorale. Prima pagina del mattino, in primo piano ancora il Papa che si dimette, sfida alla Chiesa. L'annuncio ai cardinali durante il concistoro straordinario, padre Lombardi, scelta inaspettata, nessuna malattia, per Napolitano grande coraggio. Consapevole del gesto grave, ha detto Benedetto XVI, ma non ho più le energie. Intanto a marzo ci sarà il conclave ed è già la totoscelta per quanto riguarda il suo successore. Prima pagina del mattino di Napoli, ancora sul Papa, dimissioni del Papa, sconcerto tra i fedeli. Per il cardinale Sepe porterà sempre Napoli nel cuore. Corriere del mezzogiorno, prima pagina, in primo piano ancora il Papa che si dimette, questa volta le reazioni a Napoli sono diverse. La reazione tutta napoletana alle dimissioni di Papa Benedetto XVI è stata la compilazione di una cinquina da giocare all'otto. Ecco la 32 che nella morfia intica il Papa, l'11 il giorno in cui ha fatto l'annuncio e il 2 il mese in corso. E poi 28 l'ultimo giorno di pontificato di Papa Benedetto XVI e 72 che vuol dire meraviglia. Se poi si vuole puntare sul terno i numeri da giocare sono 72 la meraviglia, 32 il Papa e 78 le dimissioni. Anche in Roma in prima pagina apre con le dimissioni del Papa, il fulmine Reitzinger titola il giornale Roma. Il Papa sento la fatica dell'età per il Vaticano, una scelta improvvisa ma non è malato. L'annuncio shock di Benedetto XVI vado via il 28 febbraio. Per il cardinale Sepe profondo rispetto e ammirazione per il coraggio. Da Obama alla Merkel, dopo lo vedremo nei dettagli, sono arrivate le prime reazioni. Il Presidente napoletano è grande gesto, va rispettato, increduli sono rimasti i fedeli. Andiamo ad approfondire il caso del giorno dalle pagine appunto partendo dal Corriere della Sera. Dietro il sacrificio estremo di uno intellettuale, le ombre di rapporto segreto shock, l'addio legato alla crisi di sistema fatta di conflitti, manovre e tradimenti. Benedetto XVI, secondo il Corriere della Sera, avrebbe maturato la decisione definitiva dell'annuncio domenica. Chi è vicino a Rezinger smentisce di problemi di salute? Ma intanto, nel taglio inferiore a fondo pagina, Moretti è il film sul Pontefice, fragile, che devo dire, l'avevo previsto. Vediamo nei dettagli la notizia. Chiedo perdono al Signore per quello che sto per fare, ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. E ancora, in questi giorni ho pensato molto a voi, ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato, sento di essere tra coloro che non possono condurre, ma devono essere condutti. La guida di cui avete bisogno non sono io, non posso essere io. A parlare però non è Joseph Reitzinger, come qualcuno di voi potrebbe pensare, ma l'attore francese Michel Piccoli in Abemus Papam, nel film del 2011, diretto da Ranni Moretti. Piccoli è il cardinale che viene eletto al soglio pontificio, scosso da una crisi interiore. Il Papa, appena eletto, prima cerca conforto nell'aiuto di uno psicologo, poi fugge dalle mura vaticane per recuperare serenità. E questa non riesco a fare niente, sono sempre stanco, si convita Piccoli con un altro psicologo e conclude. Invece gli altri hanno una grande fiducia in me. Questa è stata la profezia di Nanni Moretti. Noi andiamo avanti, sempre sullo stesso argomento. Rispetto e sgomendo il mondo sorpreso, gli omaggi dei leader italiani e stranieri. Obama pregherò per lui. Decisione grande e grave, ha inteso servire alla Chiesa fino in fondo, è il Premier Mario Monti. Un gesto storico di riforma, il futuro non potrà essere uguale al passato, è Pierluigi Bersani. Sono arrivate anche le reazioni da parte del mondo politico. Angela Merkel è stata una decisione grave, ma molte persone comprenderanno come il Papa abbia dovuto fare i conti con il carico dell'età. Per Cameron, l'inglese Cameron mancherò come guida spirituale e ha lavorato duramente per rafforzare le relazioni con la Gran Bretagna e con il Vaticano. Parla anche François Hollande, ora tocca alla Chiesa pensare alla sua successione. A proposito di successione, andiamo a vedere l'ultima notizia per quanto riguarda l'argomento. Parte la corsa, sarà decisivo il fattore età. Favoriti gli under 65, tra i papabili, i cardinali italiani, Scola e Ravasi. Andiamo a vedere chi sono i possibili successori. Il nigeriano Francis Arins, i bookmakers lo indicano come il favorito al soglio di San Pietro, avendo superato gli 80 anni, non farà parte dei votanti. Ce n'è un altro del Ghana. Peter Tarxton conquistò l'attenzione delle croniche quando il Sinodo d'Africa aprì l'uso dei condom contro la diffusione dell'AIDS. Quindi è possibile anche un Papa Nero, parafrasando la canzone storica di Epitura Fresca. Il canadese Mark Ouellet e l'italiano Angelo Scola, che avevamo visto prima. Noi continuiamo la nostra rassegna. Ritorniamo alle prime pagine. Andando a vedere quello che poi ci riguarda più da vicino, Mattino di Napoli. Scandalo derivati. La regione denuncia. Interessi alle stelle per i debiti contratti fino al 2006. Caldoro pronto ad agire contro le banche. Documento di 359 pagine. Scatta l'allarme. Con la finanza creativa, 3 miliardi di mutui e obbligazioni. E arriva il super esperto. Di spalla sulla destra. Parliamo di Fincantieri. Vincono essi al referendum. È accordo sulla flessibilità. I lavoratori della Fincantieri di Castellammare di Stabia hanno aderito all'accordo sul nuovo orario di lavoro firmato dai sindacati FIOM, FIM, UILM e UGL il primo febbraio scorso. I delegati provinciali e regionali sono soddisfatti del successo decretato dal referendum azientale. A breve lo vedremo nei dettagli. Intanto, terribile ritorsione dopo una lite 51enne in manette da fuoco alla moglie. Violenza sciocca a pianura. L'uomo ha travolto la donna, poi l'ha cosparsa di benzina. Lei è in condizioni disperate. Prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Rimaniamo sulla cronaca. Napoli spreca 118 milioni l'anno. Pubblicati da sole 24 ore. I dati della Commissione per il federalismo fiscale. Il Comune è il primo in Italia per i costi della burocrazia. Intanto, per la questione porto, l'Unione Europea vuole vederci chiaro un macigno sul grande progetto. La CISL per i fondi bisogna dimostrare che non sono aiuti di Stato. Sul grande progetto per lo scalo marittimo di Napoli, piano pluriennale, che si propone di attivare 240 milioni di euro sotto forma di finanziamenti europei, oltre che investimenti privati, l'Unione Europea ritiene che le autorità portuali sono considerate imprese e di conseguenza ogni vantaggio accordato loro dagli Stati va valutato in base alle regole e sugli aiuti di Stato. Andiamo ad approfondire i casi in primo piano. Ne vedremo anche degli altri partendo dal mattino di Napoli. Regione, bomba derivati e scontro su 3 miliardi. Interessi alle stelle, pronta la denuncia. Per Caldoro difenderemo i cittadini. Il Governatore Stefano Caldoro in campo per risolvere il problema dei derivati. Le operazioni finanziarie avviate dal 2003 al 2006 sfiorano i 3 miliardi di euro. Banche nel mirino. Il Presidente della Giunta sicura difenderemo gli interessi dei cittadini. Intanto il PD accusa nel 2011 oltre 1 milioni non spesi. Parla il Democrat Rughetti. I frondi non avrebbero intaccato i vincoli del patto di stabilità. La Regione Campania per il 2011 ha tenuto oltre 1,2 miliardi in cassa senza spenderli, rilasciando però gli enti locali alla canna del gas, attacca Angelo Rughetti, segretario generale del Lanci, ma ora nelle vesti di candidato del PD per le politiche. Tra le mani alla conferenza stampa organizzata dal PD per presentare due documenti programmatici del PD contro la Regione, Rughetti mostra una tabella elaborata dalla ragioneria dello Stato dove regione per regione è segnata la differenza tra le spese e il saldo positivo e dove si evince appunto che la Regione Campania non avrebbe speso un miliardo e due. Ancora avanti parliamo di sanità, lo avevamo già visto ieri dalle pagine del Corriere, stoppa alle convenzioni, gli esperti a rischio i rimborsi. La consulta ha bocciato la legge regionale sugli accreditamenti, Palazzo Santa Lucia corre ai ripari scrivendo una nuova legge. Per Dana della Federlab perché si è perso tempo con gli accreditamenti solo a causa dell'insipienza politica. Per il prof Nardone di certo ora la Regione non potrà presentare un'altra legge regionale per aggirare la consulta, quello che poi alla fine aveva proposto appunto Caldoro. Parla l'assessore ma che prevenzione, non riesco neanche a parlare di ASL, essere medici a Napoli può significare cose diverse, c'è chi guarda i problemi da una cattedra universitaria, chi da un laboratorio, chi dal punto di vista del manager, il mio punto di vista è quello di chi sta in trincea e coincide con il punto di vista di assessore alla sanità del Comune, cioè all'ente di prossimità per le strutture sanitarie che operano sul territorio. Parla Giuseppina Tomaselli, assessore appunto alla sanità al Comune di Napoli. Siamo nella Regione con il reddito familiare più basso d'Italia e con il più alto accesso alla sanità pubblica, ecco anche io cito dati, sono quelli ufficiali dell'Istat. In questo contesto il problema culturale purtroppo è strutturale, c'è anche un problema di stili di vita ma è solo una sovrastruttura rispetto alla povertà. Il Corriere, a Napoli la burocrazia più cara, il Comune spende il 52% in più, impietusi i dati del sole 24 ore sull'ineofficienza amministrativa e intanto l'assessore Palma colpa dei costi maggiori che sosteniamo. Ma andiamo a vedere nei dettagli quali sono i dati. Incrociando i dati con i tagli previsti dalla spending review si evince che a Napoli è concentrato il 38% degli sprechi italiani a fronte di un taglio del 5%. I numeri assoluti di Palazzo San Giacomo spende 344 milioni di euro e 600 mila in servizi generali. Parliamo di ufficie entrate, anagrafe, Stato civile, servizi tecnici e statistica, mentre in un sistema corretto ne dovrebbe spendere 226 milioni e 100 mila, con una differenza del 52,4% pari a 118 milioni e 500 mila euro. Intanto Re Alfonso denuncia che avevamo un piano antisprechi, è rimasto però nei cassetti. Ancora cronaca, la strada killer resta chiusa al vertice con l'ANAS. Dopo l'incidente mortale di un giorno fa, il prefetto convoca i tecnici, i sindaci, lavori troppo lenti, a Somma intanto è lutto cittadino. L'ultimatum esposito, primo cittadino di Santa Anastasia, sono pronto a sbarcare gli svincoli d'accesso. Parliamo della strada che da Somma porta ad Ottaviano, proprio dove, poi parliamo quindi della statale 268, dove c'è stato domenica sera l'ennesimo incidente, costato la vita a tre persone, altri due sono gravi. Andiamo avanti, investe la moglie e poi le dà fuoco, lo avevamo visto già dalla prima pagina, l'uomo disoccupato, lei lavorava come colf, l'ha inseguita per strada, la cosparsa di benzina, assurdo gesto tra i passanti sotto shock. Non so perché l'ho fatto, è la difesa dell'uomo. A proposito di violenza sulle donne, dalla pagina del mattino, pecchiate e uccise, sono 15 vittime in un anno e appunto strage di donne, l'allarme del centro ascolto del comune in Campania, il record delle violenze di genere, aggressioni fisiche in aumento, l'autore nel 66% dei casi è il partner. Andando a vedere le ultime vittime, la vittima di maggio si chiamava Vincenza Zullo e abitava a Brusciano, è stata massacrata dal marito, quella di novembre Antonietta Paparo, pure lei è ammazzata dal marito a San Sebastiano del Vesuvio e sono solo le ultime due dell'anno trascorso, da poco, ieri a 2013 iniziato, da poche settimane è toccata Giuseppina di Fraia, l'abbiamo visto appunto prima. Andiamo avanti con la nostra rassegna, Ercolano si liberò al pizzo, sono stati condannati gli estorsori, tra le vittime il benzinaio che pagò i camorristi con i soldi messi da parte per il regalo della figlia. Ancora cronaca, è allarme a Piazza Caribaldi che cambia ma restano crimini e sfruttamento, negozi di sofferenza per i lavori ed è emergenza a profughi. Nelle foto potete vedere quelli che sono i cantieri aperti ancora a Piazza Caribaldi per i lavori, per le prostitute casacche di appartenenza a Varecran, tra i cantieri della stazione la criminalità si nasconde e cresce. Noi cambiamo argomento, andiamo a parlare di politica dalle pagine del mattino. PDL e PD è battaglia sulle inchieste. Caso Benevento, il centro-destra attacca garantisti solo per i loro esponenti, Palma accusa i democratici, hanno una doppia morale, non guardano i loro guai. Lo scontro da PD e PDL si fa sempre più duro e aspro, il terreno della bagarra è quello giudiziario. Ieri ad aprire le ostilità è stato il coordinatore regionale del PDL, Nitto Palma. In perfetto stile doppia morale, il PD vede la pagliuzza nell'occhio altrui, ma non la trave nel proprio. Accusa l'ex ministro della giustizia, pretesto per l'attacco e il convolgimento, in una indagine del sindaco di Benevento, Fausto Pepe, un esempio per Palma di come il PD in fatto di garantismo predichi bene il razzo di male, o si è sempre garantisti, o si è giustizialisti, o le indagini passate vanno sempre ignorate o sempre considerate. Non è pensabile che in un'inchiesta che convolge il PD è da archiviare come qualcosa di vecchio, mentre se si riguarda rappresentanti di altre forze è necessario approfondire. Questa è la polemica di Nitto Palma, noi andiamo avanti parlando sempre di politica, arriva di nuovo Bersani a Napoli, ecco il dossier Campania, domani il tour del segretario nazionale, scontro sugli assessori candidati, accelerata della campagna, domani il leader dai costruttori, poi a Casetto, il Pini e Sagnol, ritorna in Campania, Bersani ritorna in Campania che è un po' lago della bilancia per quanto riguarda le elezioni politiche, ormai ad una settimana dal richiamo alle urne dei cittadini, Campania che è un po' lago della bilancia soprattutto per quanto riguarda il Senato, campania fondamentale per governare questo Paese che si va proprio verso un pareggio per quanto riguarda il Senato. Basta con Doni, via i piani di recupero dei comuni, parla di Lello candidato alle Camera, utile votare il Partito Socialista italiano al Senato per far vincere Bersani di intesa con la coalizione, abbiamo presentato anche in Campania grazie al Partito Socialista, può arrivare un voto decisivo per darci una maggioranza stabile, il voto socialista è oggi un voto quanto mai utile perché aiuta a far vincere Bersani. Ancora politica, questa volta dal Corriere del Mezzogiorno, PDL, PD, sfida sugli impresentabili, Linitto Palma, che dite di Pepe? Ancora polemiche del coordinatore regionale che critica la doppia morale democratica, il simbolo di Benevento, mi accusa il successore di Cosentino, l'avevamo visto già prima dalle pagine del mattino, siamo abituati al PD dei due pesi e due misure, ma sul caso Benevento il PD vede la pagliuzza negli occhi degli altri, non la trave nei suoi. Intanto parla a meglio al segretario del PD che risponde, De Palma mente per l'ennesima volta a pensare ai suoi scheletri nell'armato e al suo personale politico, su cui pendono accuse gravissime. Noi cambiamo argomento, andiamo a parlare di sport, in particolar modo di calcio, lo facciamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, edizione nazionale, l'Inter sceglie Icardi, Moratti ha individuato il futuro anti-Balotelli per rispondere a cugini rossoneri, l'attaccante della Sampa ha detto sì ai nero-azzurri, in dirittura d'arrivo anche l'accordo Ferecleb, Milito che ha un contratto fino al 2014 potrebbe fargli da chioccia. Icardi che era stato accostato al Napoli per quanto riguarda il mercato di gennaio, ora sembra in dirittura d'arrivo la trattativa con la Samp, chissà che non ci siano altri svolti. Intanto la Juve senza paura con il Celtic la prima di conto, il tecnico esordisce in Champions, non ci poniamo limiti, Matri Vucinic coppia d'attacco nell'andata dei quarti, vedremo come finirà la partita. Noi andiamo avanti con il mattino in primo piano Cavani, Iron Man, Cavani macchina a gollo, non vuole fermarsi mai, intanto il Matador è rimasto ad asciutto nelle ultime due gare, è di super attreta e con la resistenza di un canoista, esperto di preparazione dei calciatori, ha lavorato con il club azzurro e la Juventus dei Tionfi, parla il professor Ventrone, macchina a chilometri e non si stanca mai, spesso si punta il dito su Cavani che avrebbe nelle sue caratteristiche del proprio organismo una proteina che lo fa stancare di meno. Perché Napoli ha regalato un tempo alla Lazio, si ritorna sulla partita con la Lazio, il Napoli che ha sprecato soprattutto i primi 20 minuti regalandogli alla Lazio un vero e proprio suicidio che poteva costare caro alla squadra di Mazzarri, lontani da Mazzarri si stacca la spina, pagata l'assenza di 10 nazionali, 21 venuti meno il pressing emotivo e la forza di coesione dell'allenatore. Intanto il personaggio della settimana Insigni che prepara la Notte d'Europa ma merita anche una maglia da titolare contro la Sampdoria domenica in campionato. Gazzetta edizione campana, Maggio va all'assalto, lo scudetto adesso o mai più, credici Napoli, il nazionale è pronto a tornare protagonista, stagione fantastica, dobbiamo provarci. Intanto andiamo a vedere alcuni numeri, tre i gol consecutivi di Maggio prima del suo infortunio, anche le gare saltate di recente, quattro le reti realizzate dall'Azzurro in questa stagione, poi l'esordio prima dell'esordio contro il Palermo, cinque le stagioni di Cristian Maggio in Magliazzurra, arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2008. Andiamo a vedere nei dettagli delle pagine di sport. Dal mattino, Napoli stellare, può vincere l'Europa League, la Juve favorita in Italia, ma la squadra di Mazzari brillerà anche in Coppa. L'intervista parla Pagliuca, proprio ex Inter e Sampdoria, vediamo nei dettagli l'intervista. Su Insigne, all'Olimpico ho visto nel primo tempo una squadra effettivamente appannata, quindi mi è parso, logico, la scelta di Mazzari di rivolgere tutto il recato in tavolo. Insigne è un attagante che ha gamba, voglia di emergere e dedizione al sacrificio, anche se Insigne è entrato a metà tempo, quando poi Berami è uscito per infortunio. Parlando di portieri, qualcuno ha messo in discussione De Santis per le loro differenze, ma io dico che uno come Morgan non si può discutere, è un portiere di livello mondiale. Ancora avanti con la nostra rassegna, parliamo di mercato, abbiamo visto in apertura i cardi alla Sampdoria, Napoli mani su Nainggolan e parte l'assalto a Damiaude. Laurenti ha già bloccato il centrocambistale del Cagliari e il Laziale di Achite, ma la partita più importante è il dopo Cavani. A mia parere si parla sempre e comunque di fantamercato in questi giorni, Napoli aveva messo le mani su Nainggolan anche all'inizio di gennaio, quando sembrava sicuro l'arrivo del Cagliaritano all'ombra del Vesuvio, Napoli aveva rimesso le mani su Icardi, anche il suo arrivo sembrava sicuro, se non a gennaio, almeno a giugno, poi sono cambiate le carte in tavola. Icardi sembra andare verso Milano, sponda nera azzurra, quindi parliamo di fantamercato. Così come per Cavani, 50 milioni del Real Madrid che si parlava addirittura di un'offerta ufficiale, quando poi Cavani ne vale, secondo la clausola escessoria, almeno 63. Su questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna, è davvero tutto per questa edizione, vi rinnovo gli appuntamenti domani mattina alle 7.30, un'ora più tardi alle 8.30. È davvero tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di questa rete. Grazie a tutti.